www.albe.com 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 Grazie. 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 orecchia sventola diciamola allarga per Caleda ancora indietro per Montigi Montigi sinistro di nuovo Caleda alza la testa cross deviazione di pugni del posto pugni di Corongio riparte Vol2 riparte ma si ferma al check-in un po' più la Caleda Caleda, Caleda, Caleda dentro in aria tiro no ragazzi no ragazzi no 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 ha già dovuto apri il piano no 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 ma non dici ora coglione ma gliela mandano a me ha fatto me ma gliela mandano a me grazie un po' no no s no 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 Grazie a tutti